Le questioni principali sono altre, sono queste ancora attuali, tant'è che sono oggetto di referendum. L'abuso della carcerazione preventiva. In un paese normale le prove raccolte attraverso quella specie di tortura, anzi quella tortura vera e propria, di cui abusava in particolare il dottor Di Pietro, e cioè o parli o io fondo la chiave della cella e tu non esci più di qua. Questa è a tutti gli effetti una tortura. Le prove raccolte con la tortura non hanno alcun valore, perché pur di uscire di galera la gente si inventa anche a proprio danno, o ingigantisce ai propri eventuali reati, e dunque siamo di fronte a una manipolazione della verità, oltre che della realtà. Ciò detto non c'è ombra di dubbio che ci fosse una corruzione diffusa nella forma del finanziamento illecito ai partiti. C'era, ma non è che è esplosa nel 1992, c'era almeno da quando esisteva la Repubblica. Difatti vedo che giustamente lei usa l'espressione mani pulite. Mani pulite c'è stata in quegli anni, pochi anni, due anni. Tangentopoli c'era da sempre. Direi da subito dopo la liberazione con la resistenza. C'è ancora oggi Martelli? C'è ancora oggi secondo lei? È cambiato qualcosa? Sei cambiato? Da questo punto di vista? Beh che ci sia ancora oggi non c'è dubbio, forse sono cambiate le forme, sono meno finanziamenti ai partiti, molto di meno. La fermo, la fermo. E molto di più ai singoli. Dottor Colombo.